Salve bella gente qui Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di Within Deep Sorrows Avrete notato che ci troviamo ancora nei bagni Questo perché la signora oltre a fare la pipì ha fatto anche qualcosa di un po' più corposo Infatti ci ha lasciato questa chiave dentro al gabinetto Deve essere stato doloroso secondo me cagarla però va bene Abbiamo questa chiave e possiamo muoverci Secondo me questa chiave qui ovviamente va messa nella cantina Non c'è nessun'altra porta che possiamo aprire Nessun'altra porta chiusa quindi andremo e lì Sei stato visto? Si è spinta la mia torcia? E sono stato visto? Oh no, no senza torcia non posso andare avanti Mi sta guardando qualcuno, mi sta... Chi mi sta guardando? Perché sono stato visto, qualcuno mi sta osservando nell'oscurità È lì dietro, è lì, non lo so Comunque noi dovevamo andare in cantina o sbaglio La vecchia è ancora qui intorno Si aggira in questo posto, è ancora lì Pensavo che dopo quel punto del bagno fosse scomparsa Ma no, lei ci sta cercando come una vecchia pazza Ci vuole uccidere Vagabonda in cerca di anime da sbranare Non avrà la mia Non avrà la mia Però adesso noi dobbiamo andare in cantina con quella lì E se mi seguisse lì Sarebbe un bel problema Eh sì Eccola la cantina Il posto di cui ho più paura Il posto in cui avevo proprio paura di andarci Ci devo andare lì Merda Succede sempre negli horror che si spacca qualcosa E cado in un punto ancora peggio della cantina Qua cosa c'è? Oh, mi sembra di vedere una scala Ovviamente qui Gli sviluppatori ci hanno dato una mano Altrimenti sarei rimasto lì per sempre Per fortuna estremamente dove sono caduto C'era proprio una scala per salvarmi la pelle Ok Vabbè ma sono abituato Eccola qui Ecco qui il posto famoso Allora, vediamo Allora, qua c'è una gabbia E qui c'è un posto Forse qui dobbiamo spegnere qualcosa No, cosa... Ah! Ma avete visto anche voi? Quello che ho visto io Quello là che andava tipo con i monopattini Ed è scomparsa dietro la sbarra così Vabbè ma in questo gioco tanto scompare tutto Mi è già scomparso prima il carrello del vecchietto dalle mani Scompare anche lei a questo punto Allora, vediamo un po' cosa dobbiamo fare Allora, qui ho premuto E Ma non ho fatto un cavolo Sicuramente questa è la macchina che toglierà l'acqua di sopra Certamente è quella Una specie di radiatore forse Ecco Allora, vediamo qua C'è una lavagna L'armonia dei colori Giallo più blu, verde Sì sì sì, certo certo Oh! Ho fatto qualcosa qui Ho premuto E Non so cosa ho preso E qui Non ho ancora capito Ah! Ah, forse ho preso qualcosa che serviva lì dentro Non so, dell'acqua boh da mettere Comunque ora È a posto L'abbiamo spenta quella macchina malefica Allora mi ha detto Trova il diario Il tizio della mela E brucialo Dobbiamo tornare indietro E bruciare quel diario Maledetto Forse questo diario è l'unica via Per uscire dai nostri incubi Che cosa? Ma mi ha creato una scala virtuale Ma non potevi farmela prima Mi ha creato una scala virtuale Per uscire dal posto Boh Sembrava tipo una scala Alla tron Come Proprio cibernetica Ma qui le cose mi sembrano un po' cambiate Siamo nel corridoio di prima No, là era dove c'era la sedia Ok Forse questa volta dobbiamo tornare per di qua Sinceramente non mi sento molto a mio agio Perché la mia torcia è sparita nel nulla Proprio si è spaccata e volata via Scomparsa Quindi Adesso non so come fare Perché è buio pesto Non vedo niente Non mi piace andare qui nel buio Sinceramente Qui ci sono solo degli armadi Torce non ne vedo Come non detto Di torce non ne vedo Mi compare la torcia in mano Appena lo dico Ok Si è autoriparata In qualche modo Bene abbiamo la torcia Qui dentro poi cosa c'è Vedo un'altra porta Chissà se possiamo raggiungere questo posto Non ne ho idea Non ne ho idea Chiusi Intrapolati Con le macchie di sangue Non c'erano Prima ho sbaglio Qualcuno ha massacrato uno scolaro Lì dentro Quella Secondo me Quella lì è una maestra pazza Che perseguita i suoi alunni I suoi alunni Ormai sto avendo anche le visioni Ho paura Ah la sedia La sedia è ricaduta giù Oh Sempre questi cosi qui Che fanno la musichetta creepy Ma non questa volta Va bene Proviamo a vedere qua C'è sangue Stampato sul muro Cosa che prima Non mi sembra I bagni I bagni I bagni sono sotto sopra Beh una cosa buona In tutto questo c'è Se questa volta esce il mostro dalla cabina Cade e si spacca la testa Perché non c'è la gravità E tutto sotto sopra Esce Qui Adesso il piano di sopra Finalmente si può passare Finalmente È sparito Il gas Vabbè il gas L'acqua Exit Sembra che si possa uscire Exit Ma noi lo sappiamo bene Su The Stanley Parable Che c'era Exit E poi si moriva Non è che mi fidi molto Qui c'è una porta chiusa a chiave Quindi penso Che dobbiamo trovare Una chiave Da queste parti Vabbè dai Proviamo Alla proprio The Stanley Parable Mi butto Vado Forse non è stata una buona idea Lo sapevo che non era una buona idea Lo sapevo Chi è che fa sta risata malefica Oh no 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 Qualcuno mi sta seguendo Ok No 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 Una risata malefica Così Così Oh Avete visto quel quadro Abbiamo trovato uno studio Con una specie di Torcia Torcia cinematografica Con un cinema Ma non sembra Che si possa far niente Qui boh Qui cosa c'è Nel tavolo non c'è niente Mmm Bel film Proprio Proprio di quegli antichi Di quelli vecchi Proprio Non funziona nemmeno Da quanto antico è Loro mi avevano detto Che dovevo distruggere un diario Qui c'è un bel diario Vuoto davanti a me Non posso distruggerlo E quella là Non mi sta perseguitando Vero Però io sono un gran figo Eh bisogna dirlo Guardate che figo Cioè se questo sono io No lì dentro Non ci entrerò mai Allora fate silenzio Perché ci sono degli esami In corso Ssh Ssh Scusa maestra Scusa Scusa Non volevo disturbare gli esami Ssh Facciamo si Ok 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 Capito tutto io Un'altra stanza Con la matematica Io la odio Filo via da questa stanza Saltando La matematica si salta proprio Si salta via Non so nemmeno cosa sto dicendo Ragazzi perché Sto avendo ansia Sto veramente avendo ansia Questo gioco Cioè non è proprio Il miglior indie mai visto Però fa paura Cioè me Sinceramente ho preso Tanta paura in questo gioco Quasi come Seven Days Seven Days è stato il gioco Dove ho preso più paura Ho preso un colpo assurdo Quando è comparso il mostro Quella volta Che me lo ricordo ancora Che qua c'è un'altra stanza Ok Musica Notte musicale Musiche Harmony Blablabla E c'è un giradischi E qui Vabbè C'è una bella musica classica Premi e Premi e Cosa Ma stiamo scherzando Ma cioè Io come avrei dovuto trovare Quella chiave Ma dai Vabbè Abbiamo trovato una chiave In mezzo a un cubolo di roba Suppongo che quella chiave Vada su una di queste porte Non ho altra idea Poi abbiamo attivato Della musica classica Che Da brividi proprio Non c'è peggior luogo Di sentire musica classica In un luogo come questo Comunque Allora Qua bisognerebbe tornare indietro Sperando Che nessuno mi Segua Di nuovo Non c'è nessuno Non è che stia facendo Multi frame rate Quindi Voglio scappare via in fretta Da questa lag Che Mi spaventa assai Ok Forse qui dentro Possiamo entrare Pieno di sangue ragazzi E il sangue No 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 Diario Fuggi 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 Salta 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 Idiota Salta Idiota Salta Idiota Al rallentatore Con il salto proprio da pro gamer E cade Non dirmi che cade Ok ce l'abbiamo fatta No 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 Corri 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 Siamo salvi Mi sto muovendo io Era tutto un incubo Sono uscito dal sogno Ok mi aspettavo uno spavento all'ultimo secondo Proprio di quelli cattivi cattivi Thank you for playing Ok questo era Within Deep Sorrow Prodotto dal grande William and Charlie Directed e bla 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 Quindi ragazzi io penso che questo Sia tutto per questo video Gioco carino Vi consiglio di scaricarlo Magari una sera ve lo giocate Cioè non è male È corto Una grafica abbastanza carina Per essere un indie di questo genere Quindi io penso che questo sia tutto per questo video Spero che vi sia piaciuto E noi ci vediamo al prossimo Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti.